apriamo la mini tin di destino alpadea vediamo cosa troviamo in questa mini tin troviamo cartellino e adesivo e due bustine di destino alpadea vediamo cosa ci da la prima bustina energia fuoco vubat, scragi, gimigul, magmar, maushold, kissara, kanarupt, minorball, monkey e anilaip olografico andiamo per la seconda bustina con pikachu energia studenti di paldea fidu hunter nato macchinario tecnico graploft zaino di nemi sotto oswobet baby shiny un flittle e un rotom calore e un rotom calore abbiamo trovato solo una baby shiny un iscrivetevi al canale cliccate mi piace ai video e attivate la campanellina per restare aggiornati sui video grazie a tutti buona serata buona serata grazie 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 grazie